È in corso all'Aquila in questi giorni la 14esima edizione del Festival della Cultura Pop sulle Tracce del Drago, nato da un'idea di Salvatore Sant'Angelo e promosso dall'Associazione L'Aquila che rinasce. Fantasy, cosplay, fumetti, giochi di strategia, intrattenimento, espositori e spettacoli, tanti mondi in connessione negli spazi della villa comunale. L'area fumetto è una delle grandi novità di questa edizione, con un caledario di incontro con gli editori fumettisti più interessanti nel panorama nazionale e poi stand di prodotti unici e artigianali. L'area cosplay e l'area gaming si trovano all'esterno del nemiciclo e sono i punti di riferimento per i appassionati. Presenti i cosplayer amatissimi dal pubblico come Emiliano Gessa, Fiori di Luna e Sara Vespasiani e la Sera Musica per Tutti. Questa sera, vista l'indisponibilità degli effect 65, c'è Corona. Il Consiglio regionale, ha spiegato il vicepresidente Roberto Sant'Angelo, è lietissimo di ospitare una manifestazione ormai consolidata che attrae un pubblico da tutta Italia. Siamo orgogliosi come Consiglio regionale di ospitare questa manifestazione ormai da cinque anni. Il Palazzo dell'Istituzione si è aperto alla contaminazione. Nella Navata Centrale c'è il playground dove ieri centinaia di ragazzi giocavano, quindi socializzavano un po' meno social con Facebook e Instagram e un po' più nella realtà. Quindi anche un momento di contaminazione dove le famiglie con i bambini, con i ragazzi adolescenti trovano dei momenti di spazio. Quindi il nostro capoluogo di regione non smette di vivere, continua a vivere nonostante sia formalmente finita l'estate con agosto. Invece ci sono ancora decine di eventi, complimenti all'amministrazione comunale. Iniziative che poi portano tante persone, perché c'erano tante persone, tanti appassionati da fuori. Bene, queste sono iniziative che richiamano soprattutto persone da fuori. Pensate che domani e domenica ci saranno dei momenti dei cosplay, le persone che vogliono interpretare personaggi dei manga, dei fumetti. In qualche modo verranno da tutta Italia per mostrare la loro arte attraverso poi una competizione. Quindi anche punto di riferimento di persone che vengono da fuori, che vengono poi a vedere una città che è rinata, sta rinascendo, più bella di prima.